Un uomo solo, un cane, la grande città, due ragazzi d'estate, un incontro che cambierà la vita di tutti. Guarda Nino che bel cane, mamma, ma è bellissimo, proprio lì vicino al senza tetto, cosa darei per averlo? Dai andiamo via, ma chi è quello lì? Nino, guarda! La parola scritta mi ha insegnato ad ascoltare la voce umana. Resta poco, come gli atteggiamenti maestosi e i moti delle statue, mi hanno insegnato ad apprezzare i gesti degli uomini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.